Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro di un martedì verde perché il tema sarà la vita delle piante e i loro diritti. È un incontro che si inserisce tra l'altro in un mese intero che abbiamo dedicato alle questioni ambientali e climatiche, abbiamo cominciato ai primi del mese e continueremo fino alla fine a lavorare su questi temi. Un benvenuto ai nostri ospiti, illustri ospiti, ad Alessandra Viola, ambasciatrice della natura, mi piace presentarla con questo titolo anche se poi diremo anche tutti gli altri. Al professor Renato Bruni, fitochimico botanico. Va benissimo. Va benissimo. Bene, allora la conversazione di oggi riguarderà i temi che Alessandra Viola ha trattato in un suo recente libro, edito da Inaudi, che si intitola Flower Power, le piante e i loro diritti. Eccolo qua. Ed è un libro importante perché ha il pregio proprio di spostare il nostro sguardo e di spostare i nostri paradigmi consueti dalla comunità umana alla comunità dei viventi. Quindi ha uno sguardo molto più largo e consapevole sui viventi, sulla comunità dei viventi che sono nel nostro pianeta. Questo in cui tutto, ognuno è in relazione con l'altro. Di questa comunità di viventi, poi, il mondo vegetale occupa il 90%, quindi ne deriva subito una considerazione che salvaguardare, proteggere le piante e la loro vita. Le piante sono un elemento fondamentale, cruciale nell'ecosistema, vuol dire anche salvaguardare la nostra vita. Quindi lo sguardo, ecco qui lo spostamento, un altro cambio di paradigma, un altro sguardo che si deve aprire sui diritti. La cerchia dei diritti che ha sempre riguardato, molto spesso ha riguardato l'uomo soprattutto, invece bisognerebbe cominciare ad estenderla a tutto il mondo dei viventi. Questo è un po' il tema del libro. Già il nostro Italo Calvino lo diceva più di mezzo secolo fa, lo faceva dire a Cosimo appunto, dove si parlava di una dichiarazione dei diritti delle piante, tra le altre cose. Ecco, sono belle le pagine nel libro proprio che attraversano un po' questo dibattito che c'è stato sull'allargamento, sull'estensione dei diritti. Ci sono pagine anche che raccontano storie, belle storie di difesa delle piante o di difesa dell'ambiente. Spesso sono le donne che si sono prese questo ruolo. Quindi un libro che sarebbe proprio da proporre, da adottare anche nelle scuole, per i ragazzi, perché credo sia importante. Alessandra Viola ha un curriculum interessante, ricco, perché è laureata in filosofia, in filosofia, poi si è appreso un dottorato in scienze agrarie e ambientali e in comunicazione della scienza. Come insegna? È docente anche universitaria, mi diceva che insegna a Venezia, insegna alla LUIS. Come giornalista collabora con le maggiori testate nazionali, con riviste scientifiche e anche autrice di trasmissioni per la televisione, di documentari e trasmissioni scientifiche. È addirittura di un cartone animato, leggevo, il traguardo di Patrizia, che è un cartone sul tema dello Ius Soli, raccontato appunto ai bambini, ai giovani, che è stato tra l'altro insegnito, per cui è stata insegnita di una medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica. Veniamo anche ai suoi libri. Solo per precisare, perché non voglio prendermi meriti che non ho, io non insegno più alla LUIS e attualmente sono una fellow, sono una visiting student all'Università, al Center for the Humanities and Social Change dell'Università di Venezia, quindi tecnicamente faccio dei seminari ma non insegno. Va bene, comunque è un'attività anche di docenza, di insegnamento. Bene, grazie della precisazione, io ero rimasta a una biografia forse un po' superata. Forse dell'anno passato, sì sì. Esatto. Niente, poi veniamo ai suoi libri, tra i suoi libri verde brillante, sensibilità e intelligenza del mondo vegetale, è stato un bestseller, un libro che è stato tradotto in tantissime lingue e poi trash sul tema dei rifiuti. Entrambi questi libri hanno avuto un premio nazionale per la divulgazione scientifica e poi dal 2019 è stata nominata ambasciatrice della natura. Il professore Renato Bruni insegna, è docente presso il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco dell'Università di Parma, dove si occupa soprattutto proprio di piante, le piante, piante medicinali, integratori alimentari e delle sostanze chimiche prodotte dalle piante. È direttore scientifico dell'Orto Botanico di Parma. Tra l'altro leggevo che la città di Parma sta investendo su questo, sta investendo sull'Orto Botanico e ne vuole fare un centro di aggregazione culturale e sociale, quindi è una bella cosa. Poi cura anche un blog, Erba Volant, che è anche il titolo di un suo libro, un libro di successo, che era Erba Volant, imparare l'innovazione dalle piante. Ha scritto anche, tra gli altri libri, Mirabiglia, la botanica nascosta nell'arte, un bel libro con bellissime tavole, che abbiamo presentato proprio nei martedì della Libera Università, credo due anni fa. Ecco, io direi che posso lasciare la parola ai nostri ospiti, ringraziandoli ancora di essere con noi. Vedo che c'è un numero molto alto di presenze, mi fa molto piacere. Vi posso dire anche che alla fine di questa conversazione potrete formulare delle vostre domande sulla chat di questa piattaforma. Si conclude questo ciclo dei martedì al femminile, perché abbiamo invitato soprattutto, anzi, abbiamo invitato solo delle autrici, scrittrici, donne, con interlocutori anche maschili. Riprenderanno i martedì dopo Pasqua. Intanto però ci sarà un ciclo importante organizzato dall'Università di Modena e Reggio Emilia, insieme alla LUC, che si intitola Pandemia e Nuova Normalità. Saranno dei webinar, saranno tavole rotonde, che cominciano con il professor Luca Pani, farmacologo, giovedì 25 marzo alle 17.30. Ho già mandato una newsletter indicando il link per connettersi, ma è molto semplice. Potete farlo anche dal nostro sito della Libera Università Crostolo, è ad accesso diretto. Si pregavano i docenti che interverranno di connettersi con un qualche anticipo per una serie, per una ragione logistica. Quindi vi invito a questo primo appuntamento, che è il 25, a cui ne faranno seguito altri dopo Pasqua. Con questo io ho detto tutto, mi tolgo dal video e dall'audio e lascio ai nostri ospiti la parola. Grazie. Grazie. Sono io, siamo noi, che ringraziamo voi per l'occasione e per questo momento in cui parlare di piante dà una prospettiva leggermente diversa dal solito, perché il tema che Alessandra Viola ha affrontato nel suo libro è un tema, come si dice in questi casi, potente, ma è anche un tema che fino ad ora è sempre rimasto molto sotto traccia. Proviamo a introdurlo con qualche esempio in più, per riuscire a capire quali siano i punti importanti che sono stati sollevati in questo libro e poi provare a svilupparli. Per molto tempo abbiamo ultimamente, abbiamo raccontato spesso, l'ho fatto io, l'ha fatto Alessandra con i suoi libri precedenti, quanto le piante abbiano alcuni aspetti che noi abbiamo trascurato, alcuni aspetti legati alla loro sensibilità, al modo in cui si adattano a sopravvivere le condizioni del mondo che cambiano, abbiano alcuni aspetti che l'antropocentrismo con cui è stata condotta anche parte della ricerca scientifica, alcuni aspetti che sono stati trascurati, che sono stati lasciati un po' da parte. Questo elemento che è emerso negli ultimi anni non è soltanto a mio avviso un qualcosa di legato a nuove scoperte scientifiche, ma è legato anche, ho usato prima la parola sensibilità, a una nuova sensibilità che la società, soprattutto la nostra società, ha iniziato a introdurre nei suoi temi, ha iniziato a tenere presente. Faccio un paio di esempi utilizzando alcuni aspetti che non riguardano le piante. Fino a qualche decennio fa, mi piacerebbe dire fino a qualche secolo fa, ma purtroppo i tempi sono più vicini, trattare male gli animali non era considerato una cosa così deplorevole. L'animale era la bestia da soma, era un qualcosa che doveva servire ai bisogni dell'uomo e quindi se non serviva ai bisogni dell'uomo doveva e poteva anche sottostare a varie forme di maltrattamento. Attualmente questo tipo di comportamento la nostra cultura ha iniziato giustamente a vederlo progressivamente e sempre di più come un atteggiamento eticamente e moralmente scorretto da stigmatizzare. Fino a qualche tempo fa, fino ad alcuni decenni fa, qui non posso tirare in ballo i secoli, che le piante venissero potate in un certo modo semplicemente per soddisfare delle ragioni estetiche era assolutamente accettato, anzi non c'era nulla di cui discutere. Fortunatamente da qualche anno anche i cittadini delle città hanno iniziato ad esempio a prestare più attenzione a come viene mantenuto il verde urbano, al fatto che il verde urbano debba essere gestito, curato, mantenuto, sottoposto a potature che siano attente alle esigenze fisiologiche della vita delle piante e non debbano soltanto soddisfare esigenze di tipo economico, di gestione, esigenze di tipo estetico. Questo elemento applicato alle piante è un primo piccolo esempio, sicuramente non articolato come quelli che ha fatto Alessandra nel libro, di come si stia sviluppando un po' più di sensibilità per le piante come organismi con cui conviviamo, non organismi che sono lì e fanno da tapezzeria, ma organismi che vivono insieme a noi, che vivono nello stesso posto in cui viviamo noi. Se vogliamo rimanere nel tema della città, nostre concittadine e nel momento in cui qualcuno diventa e inizia ad essere percepito come un nostro concittadino, forse deve iniziare ad avere dei diritti, non dico uguali, possiamo provare a dire simili, possiamo dire generalmente dei diritti da definire in quanto concittadino come noi e quindi sottoposto agli stessi diritti e gli stessi doveri. Adesso forse tiro anche un pochino la corda. Quello che ha fatto Alessandra è provare a mettere a sistema questo tipo di pensiero, fare un po' una panoramica di che cosa succede nel mondo su questi temi e del perché questo tema abbia tutta la dignità di essere quantomeno discusso, non di arrivare già alle conclusioni e allo scrivere una dichiarazione dei diritti delle piante in maniera già diciamo come se fossero le tavole della legge, ma far partire questo discorso, innestare questo tipo di argomento e vedere come svilupparlo e come concluderlo. In questi casi quando c'è un tema un po' nuovo che magari è stato sotto traccia, forse la prima domanda che mi viene da farle è qual è stata la scintilla, cioè quello è stato l'elemento che ti ha fatto pensare di affrontare questo tema in un libro. Nella prefazione parli di una cosa, però secondo me quell'evento della prefazione è avvenuto a libro quasi finito, quindi è all'inizio ma forse è nato alla fine. Quello è successivo, hai ragione Renato. Grazie intanto per l'introduzione e grazie alla Libera Università del Crossolo per questo invito. Lo spunto per iniziare a parlare di diritti viene dal libro che ho scritto con Stefano Mancuso che si chiama Verde brillante intelligenza e sensibilità delle piante che parla appunto di quanto straordinarie sono le piante e di come appunto Renato già lo diceva, di come le conosciamo poco e di come in fondo le abbiamo sempre sottovalutate e continuiamo a farlo. In quel libro si sostiene la teoria dell'intelligenza vegetale, cioè che le piante siano dotate di un'intelligenza, cioè della capacità sostanzialmente di risolvere problemi, poi che abbiano abilità sociali, che siano in grado di comunicare, che siano esseri viventi straordinariamente in grado di sentire l'ambiente, quindi contrariamente a quanto siamo soliti pensare, che non siano esseri deprivati sensorialmente. Pensate all'uso della lingua, noi diciamo a quello poverino è ridotto un vegetale, per dire che sensorialmente o motoriamente o mentalmente è deprivato. Le piante sono tutto il contrario, sono degli esseri che sono in grado di sentire l'ambiente in maniera estremamente raffinata, perfino più raffinata di noi che invece ci sentiamo sempre il metro dell'universo e che pensiamo di essere i migliori in tutto. E quindi in quel libro si sostiene appunto, si spiega come le piante abbiano tutti e cinque i nostri sensi più alcuni che noi non abbiamo e come siano in grado appunto di prendere decisioni, di imparare, di ricordare e di fare tantissime altre straordinarie cose pur non avendo un cervello. E a partire da tutte queste considerazioni poi è nata un po' questa idea che piano piano nel tempo e con le varie letture si è andata rinforzando di dire se le piante sono degli esseri eventi così straordinari e in alcuni casi veramente trovano delle soluzioni originali che noi addirittura vogliamo copiare per adattarsi all'ambiente, per risolvere dei problemi, perché nessuno ha mai parlato dei loro diritti? Perché abbiamo parlato dei diritti come ricordava Renato dell'uomo, della donna, del bambino, del malato, degli animali e nessuno si è mai, non dico che non li abbiamo riconosciuti, che mi pare normale insomma, ma che nessuno si sia mai nemmeno posto il problema se le piante debbano o non debbano averne. Ecco questo era l'inizio della conversazione. E nella prefazione invece quella che Renato ricordava si parte da un altro fatto che invece è un fatto di cronaca e cioè dall'incendio che avveniva proprio mentre io cominciavo insomma a scrivere il libro della cattedrale di Notre Dame, che nel 2019, nell'aprile 2019 è andata a fuoco, come tutti sapete, insomma è stata distrutta e in particolare per la parte che interessava a me è andata distrutta quella che si chiamava la foresta, cioè il tetto che era 10 metri per 50, tutto costruito con delle grandi querce di circa 700 anni l'una, quindi grandissimi ronchi di querce aggregevano questa enorme insomma copertura. E quando Notre Dame è andata a fuoco si è parlato subito e immediatamente, essendo chiaramente uno dei monumenti simbolo della cristianità, della Francia, di Parigi eccetera, di ricostruirla com'era e dov'era. Ora dov'era chiaramente non era un problema perché dov'era era a Parigi ed è rimasta lì, ma com'era invece sì, perché per ricostruire la foresta, cioè questo tetto, ci volevano di nuovo delle querce di 700 anni e questo naturalmente è un problema oggi perché i boschi non sono più quelli del 1300. Allora però il Consiglio Nazionale delle Ricerche francese ha detto non vi preoccupate, ci pensiamo noi, ha fatto un po' di conti e ha detto ma bastano anche delle querce che abbiano tra i due e i 300 anni. Adesso vi diciamo anche sì sì, ce ne vogliono circa 2000. Beh questo è un problema, ma no, i francesi hanno pensato anche a questo, hanno detto beh facciamo, lanciamo un appello ai proprietari anche privati di boschi perché donino le loro querce secolari per la ricostruzione di Notre Dame. È incredibile a dirsi, tutto questo sta avvenendo sui nostri occhi, sotto i miei occhi orripilati e sotto quelli di tante altre persone, spero anche se indignate. Qualche giorno fa il Ministro della Cultura e il Ministro dell'Agricoltura sono andati, francesi, sono andati in una foresta vicino a Parigi a fare delle belle X con la vernice sui tronchi di queste querce di due e trecento anni, quindi se avevano trecento anni pensate che erano già nate, che ne so, ai tempi della rivoluzione francese, ai tempi dei fratelli mongolchi erano già nate, no? Quando c'era Napoleone erano già lì e noi adesso le tagliamo per farci il tetto della cattedrale che per carità, naturalmente Notre Dame vada ricostruita, insomma io non ho nulla in contrario, ma mi chiedo nel ventunesimo secolo si può pensare di uccidere duemila esseri viventi, intelligenti, senzienti, tutto quello che ci siamo detti, comunicativi, che peraltro hanno delle funzioni ecosistemiche straordinarie per ricostruire il tetto di una cattedrale? E nel libro mi chiedo e lo chiedo anche a voi, ma se fossero stati duemila cani o duemila gatti o duemila pinguini o duemila zebbre o qualsiasi altra cosa o duemila tartarughe centenarie, ma non ci sarebbero stati movimenti di persone che si incatenavano, no? Animalisti che dicevano no, non si possono uccidere le tartarughe per rifare il tetto di Notre Dame. Qualcuno ha sentito qualcosa su Notre Dame? Tutto tace perché gli alberi sono, tagliare gli alberi si chiama fare il bosco, beh io propongo di chiamarlo biocidio se proprio non vogliamo chiamarlo strage, perché è questo che è, è quindi insomma da qui. Io mentre leggevo quel capitolo pensavo, adesso tu hai citato le zebra, io immaginavo cosa sarebbe successo se quelle volte fossero state fatte di avorio e quindi fosse stato in questo momento necessario abbattere non so quante migliaia di elefanti per riuscire a riavere quel tipo di materiale. Faccio un commento e una osservazione così, come dire, inizio a fare un... ogni tanto faccio un po' l'avvocato del diavolo, visto che tu stessa nel libro hai fatto l'avvocato del diavolo di te stessa, perché nella parte finale del libro, dopo aver esposto le tesi e le proposte che poi adesso cerchiamo di sviluppare, hai anticipato delle domande, le domande un po' spontanee, magari alcune di queste domande sorroggiare la testa di chi ci sta ascoltando. Allora, una prima osservazione è proprio legata all'età. Faccio notare che ai tempi della costruzione di Notre Dame c'erano delle querce di 700 anni. Questo significa che a quei tempi alberi di quel tipo non erano rarissimi, erano relativamente facili da trovare. In questo momento querce di 700 anni non ce le abbiamo, sono quelle che noi segnaliamo come se fossero dei grandi monumenti nazionali, l'albero più vecchio della regione Emilia-Romagna, perché nel frattempo le abbiamo già abbattute tutte ed è quasi un miracolo averne di 200-300 anni. Quindi già il nostro approccio non solo verso la pianta ma verso il bosco, verso l'ecosistema in cui quella pianta si trova, è cambiato molto. Invece la domanda un po' più così, da avvocato del diavolo, che ti faccio adesso è questa. Quindi noi come potremmo rifarle quelle volte? Soprattutto adesso in cui si parla molto di economie circolari, in cui si parla molto di sostenibilità. Tu hai scritto anche un libro dedicato alla gestione dei rifiuti, quindi sono temi che si intrecciano, in cui magari spesso si parla di costruire case utilizzando legno. Questo aspetto, come lo gestiamo nel momento in cui le piante avessero dei diritti? Anticipo il fatto che non abbiamo ancora definito quali potrebbero essere questi diritti e magari dopo lo sviluppiamo. Ma allora, premesso che io non sono un architetto o un ingegnere naturalmente, però questo è un punto che è stato sollevato. Io ho scritto a molti giornali francesi, ho cercato un po' di sollevare il problema e qualcuno mi ha risposto e uno mi ha chiesto proprio così, mi ha detto beh ma come possiamo farle? Ma non lo so, voglio dire, nel ventunesimo secolo sarà pieno di alternative, non so, possiamo farle di acciaio, possiamo farle di plasticone riciclato, non lo so sinceramente. Però qualunque modo è meglio che uccidere delle querce di 300 anni, anche perché come tu dicevi le querce di 300 anni oggi scominciano ad essere rare anche quelle e questa idea che abbiamo molto e che si usa anche tanto in città, cioè che uno vale uno, cioè io uccido una quercia di 300 anni, la taglio, voi mi scuserete se dico che la uccido, però di fatto la uccidiamo quando la tagliamo, tagliamo il tronco alla base e la quercia è morta e ci metto accanto un alberello di un anno e dico beh ne ho tagliata una, ne ho ripiantata una, ma non è la stessa cosa, tanto per cominciare perché comunque una l'ho uccisa, quindi insomma non è la stessa, non è che la vita diciamo è sempre no, uccido Alessandra, vabbè tanto c'è Renato, ma non funziona così, intanto ho ucciso Alessandra, ho ucciso qualcosa di irripetibile, ho ucciso comunque le sue idee, no, quello che era e quello che era quella pianta e poi sì va bene ho piantata un'altra, ma quella è un'altra pianta, è una pianta diversa e comunque una pianta di 300 anni non ha le stesse funzioni, le stesse capacità, lo stesso ruolo ecosistemico di una pianta di un anno, di una pianta di 10 e neanche di una pianta di 30, quindi è folle quest'idea che noi possiamo rimpiazzare tutto perché non tutto ha lo stesso valore a livello degli ecosistemi, insomma questo se sicuramente Renato lo sa meglio, lo sa dire molto meglio di me. È anche molto semplice, basta, è molto intuitivo, no, quanta ombra fa un albero di 300 anni, quanta ombra fa un alberello alto un metro e mezzo e l'ombra se parliamo di città è uno degli elementi e la presenza delle foglie della chioma è uno degli elementi che rende sensato e utile la presenza di piante e quanta aria pulisce, filtra, quante specie di animali riesce a ospitare e così via, insomma, quant'acqua riesce a drenare dal terreno, insomma. Questo discorso sui diritti lungo che strade ti ha portato, perché i racconti che fai, i racconti che usi per introdurre e per, come dire, non voglio dire la parola giustificare, però rinforzare il pensiero vanno un po' in giro per il mondo, ci sono delle storie che riguardano l'India, storie che riguardano le sequoie negli stati affacciati sul Pacifico negli Stati Uniti, fanno percepire che questo tema non abbia germinato solo nelle nostre città, ma sia nato in vari posti del mondo. Ti chiedevo due cose, che cosa hai scoperto un po' in giro per il mondo, magari con un paio, uno o due di quegli esempi che fai nel libro e soprattutto in che direzione vanno? Cioè, questi diritti delle piante di cui stiamo parlando ora, che figure, che forme gli dobbiamo dare? Quali sarebbero, come dire, gli articoli uno, due, tre di un'ipotetica dichiarazione dei diritti delle piante? Ma questa è una bellissima domanda. Allora, per prima cosa, quando io ho deciso che volevo occuparmi di diritti, ho dovuto cominciare a chiedermi che cosa sono i diritti. Io non ho studiato legge e quindi ho dovuto fare tutto un percorso per capire esattamente che cosa siano i diritti, perché quando io ho cominciato a parlare con tante persone, dicevo ma io vorrei occuparmi di diritti delle piante, perché nessuno ha mai pensato ai diritti delle piante, basta fare delle leggi migliori per la tutela dell'ambiente. E io dicevo, ma no, perché delle leggi per la tutela dell'ambiente? Perché per tutelare gli uomini? Allora non facciamo delle leggi migliori, no? Perché facciamo delle leggi migliori contro la rapina, contro, che ne so, contro l'omicidio, no? Che regolamentino tutto quanto. Perché gli abbiamo dovuto riconoscere dei diritti? Perché per le donne abbiamo dovuto fare la stessa cosa, per i bambini e per gli animali? E le piante no. Dov'è questo limite? Chi l'ha tracciato e su quali basi? Perché implicitamente tutti diciamo che insomma gli altri soggetti sì e le piante no. E allora questa cosa è proprio dentro di noi, cioè è dentro tutte le persone con le quali ho parlato, quest'idea che insomma le piante se non hanno diritti è perché non ce li devono avere, perché non gli servono. Perché non hanno la coscienza di rivendicarli, forse. Qualcuno dice perché non hanno la volontà, però neanche i bambini hanno la conoscenza di rivendicarli, eppure ce li hanno lo stesso, neanche gli animali, però se ne è parlato, comunque in alcuni paesi sono riconosciuti. Quindi in realtà poi quando li vai a guardare uno per uno, e appunto c'è chi dice che è una questione di dignità, c'è chi dice che è una questione di coscienza, c'è chi dice che è una questione di avere un fine proprio, filosofi e giuristi si sono dati un sacco di spiegazioni, e se le vai a guardare tutte una per uno, però secondo me sono tutte estremamente arbitrarie, perché non c'è un vero punto. Qualcuno dice perché le piante non soffrono. E anche questo è un confine totalmente arbitrario, che non ha nessun senso, ora io non mi posso smontarli tutti quanti come ho fatto nel libro, però veramente mi piacerebbe poterne discutere. Per esempio questo limite del dolore, che è un tema che è insomma sempre piuttosto curioso, che è stato introdotto dagli animalisti. Sono gli animalisti che hanno detto anche gli animali devono avere dei diritti come l'uomo perché gli animali soffrono come l'uomo, e quindi hanno introdotto quest'idea che il diritto sia legato alla sofferenza. In realtà storicamente questa cosa funziona abbastanza perché il diritto viene concesso in genere in funzione riparatrice, cioè c'è stato qualcuno che ha subito un grande torto dalla storia, dagli altri uomini, dagli altri esseri umani e quindi gli concediamo i diritti per riparare questo torto e riconoscere invece che adesso questa cosa non deve succedere più. E quindi i diritti dei neri dopo tutte le sopraffazioni, la schiavitù e poi i diritti dei bambini dopo la prima guerra mondiale in cui erano stati messi a rischio nel 1924, poi i diritti dell'uomo dopo la Shoah, gli errori della seconda guerra mondiale, i diritti delle donne, non ne parliamo dopo duemila e più anni di sopraffazioni e ancora insomma ne dobbiamo discutere, i diritti degli animali quando abbiamo scoperto gli orrori degli allevamenti intensivi, ma se ci pensiamo in realtà i diritti delle piante ora perché sono almeno due secoli se non un po' di più che veramente noi stiamo conducendo una lotta senza quartiere nei confronti di questi esseri viventi dai quali oltretutto dipende pure la nostra vita. E allora a quelli che dicono no, le piante no perché le piante possono essere tutelate in un altro modo, io rispondo dopo averci pensato tanto, insomma questa è l'idea che mi sono fatta, che in realtà i diritti sì per due bellissimi motivi che hanno a che fare con i diritti non con le piante. Il primo è che i diritti esprimono l'idea della società che li riconosce. Quindi se noi riconosciamo i diritti delle piante vuol dire e vorrà dire che finalmente ci siamo convinti di essere non i padroni del mondo, che è un'idea medievale che ancora ci portiamo dietro, anzi è ancora più antica che comunque ci portiamo dietro così rinsaldata, così forte dentro di noi dal medioevo, quindi veramente basta, non se ne può più, ma siamo soltanto come diceva dei concittadini, insomma siamo dei membri di questa grande società di esseri viventi che abita il pianeta Terra e sicuramente abbiamo delle caratteristiche particolari che ci distinguono, ma in realtà tutti gli esseri viventi hanno delle caratteristiche particolari che ci distinguono dagli altri e si tratterebbe di riconoscere insomma che ognuno degli esseri viventi e anche degli altri esseri viventi ha un ruolo insomma molto importante. Le piante in primis perché le piante sono l'origine della vita sul pianeta in tutti i sensi in cui è possibile fare queste affermazioni. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che dopo che sono stati riconosciuti questi diritti, che non costa niente, è una cosa a costo zero, un'affermazione di principio che non cambia il nostro sistema giuridico, cambia soltanto il nostro punto di riferimento ideale. Dopo che sono stati riconosciuti questi diritti diventano qualcosa a cui tendere, diventano un'idea di una nuova società. Voi pensate ai diritti delle donne, chiaramente non sono stati ancora del tutto messi in pratica, questa famosa parità non è ancora nei fatti, però il fatto di averla riconosciuta fa sì che noi abbiamo un punto di riferimento ideale al quale tendere, sappiamo che dobbiamo arrivare lì, poi ci sarà un percorso, ci saranno dei tempi lunghi, ma è una strada che è segnata, è una via e così riconoscere i diritti delle piante è una via, è un posto dove andare, è una cosa alla quale tendere, quella di dire non che le piante siano come noi, perché è naturale ed evidente che non lo sono, ma che le piante semplicemente non sono oggetti, le piante sono degli esseri viventi e come tali hanno dei diritti, hanno delle esigenze, hanno delle necessità e noi semplicemente dobbiamo pesare le nostre con le loro, perché per rispondere alla seconda domanda che mi faceva Renato, quali sono questi diritti delle piante, io non lo so, io ho provato a ipotizzare e a dirne alcuni e mi sono anche risposta con le obiezioni in questo dialogo, diciamo, che in realtà poi ho realmente condotto con tante persone con le quali ho discusso questa cosa che ho riprodotto un po' nel libro, per esempio se le piante avranno dei diritti, chiaramente avranno il diritto di vivere, è il diritto numero uno di tutte le carte dei diritti, però se hanno il diritto di vivere, allora noi che cosa mangeremo? E nessuno dice, tantomeno me ne guardo io dal dirlo, che non potremo più mangiare le piante, perché senza piante nessun essere vivente sul pianeta può più sfamarsi, quindi il punto non è non mangiare le piante, che rimane comunque la scelta più ecologica, mangiare verde, il punto è pesare le nostre esigenze con quelle di altri esseri viventi e quindi per esempio cercare di non sprecare, cercare di coltivare in una maniera razionale e sensata, rispettosa anche delle modalità in cui le piante possono, diciamo, dispiegare il loro patrimonio genetico, cioè non piegare per forza la natura, in questo caso appunto le piante alle nostre necessità, ma anche un po', possiamo dire così, venirsi incontro, ecco, smetterla di considerare questi esseri viventi come solo delle risorse. C'è un'espressione che si usa spesso quando si parla di accoglienza, che è riconoscere l'altro da noi, cioè nel momento in cui io riconosco l'altro da me, sto già facendo il primo passo per accoglierlo e tenerlo vicino a me, quindi il fatto che le piante abbiano alcune cose in cui possiamo trovare delle proiezioni di noi, da parte sulla sensorialità, no, anche quella che veniva fuori in Verde Brillante, e cose in cui sono totalmente diverse da noi, e alcune di queste cose in cui sono totalmente diverse da noi, secondo me, hanno in parte anche determinato un certo atteggiamento che abbiamo sempre avuto nei loro confronti, perché molto banalmente, molto semplicemente, io faccio empaticamente, riesco a provare più facilmente una proiezione verso l'animale che soffre, perché soffre con una modalità che è riconoscibile rispetto al mio dolore, faccio più fatica a riconoscere che quello che la pianta subisce in maniera apparentemente invisibile e trasforma in un segnale di allarme al suo interno per riuscire a gestire, a interpretare una situazione di grande pericolo, faccio fatica a chiamarlo dolore, faccio fatica a proiettarmi su quello, e poi le piantano a quell'altra cosa che è la loro fortuna, la loro sfortuna che tendono a ricrescere, quindi io se le maltratto loro ricrescono, quindi forse questo quasi dall'alibi biologico alla potatura o all'intervento drastico. Quindi diciamo che sicuramente già riconoscere un altro da me è un passo importante per iniziare a impostare un discorso sui diritti. Quando fai l'esempio delle cose da mangiare o prima mi ha fatto l'esempio dell'architettura, in che modo operativamente potremmo trovare il modo di trovare quell'equilibrio? Nel senso che tu hai introdotto anche un aspetto che è verso la fine che riguarda il piegare le piante ai nostri bisogni, è un qualcosa che possiamo incrociare con altri temi, con altre discipline. Sentendo di parlare, a me è venuto in mente un ramo dell'induismo, che è il jainismo, era un ramo in cui in realtà ci sono molte ispirazioni filosofiche per il discorso che stai facendo tu. Era un ramo in cui i monaci erano chiamati a vivere una vita di grande morigeratezza, quindi di consumi molto contenuti, perché più contenuti, più essenziali erano i contenuti e minore era lo spreco di viti altrui che dovevano essere sacrificate per garantire la nostra. In un certo senso i diritti delle piante portano verso una gestione molto più consapevole dei nostri consumi. Se vogliamo provare ad andare a giocare su un altro tavolo, che non sia solo quello del verde. Beh sì, senz'altro. I diritti delle piante portano, come ti dicevo, al fatto di non poter considerare più che le piante sono semplicemente lì a nostra disposizione e che noi possiamo farne quello che vogliamo. Per rispondere più accuratamente mi piacerebbe introdurre un tema che qui è poco noto, che è quello dei diritti della terra e della giurisprudenza della terra. Perché i diritti delle piante, diciamo, sì, li ho inventati io, li ho introdotti io, ho scritto io questa carta dei diritti delle piante, però si inseriscono all'interno di una corrente di studi giuridici e filosofici che si chiama appunto giurisprudenza della terra, insomma a tanti nomi, e che si occupa proprio dei diritti degli ecosistemi. Risale alla fine degli anni settanta del secolo scorso, quando per la prima volta qualcuno si chiese insomma se appunto gli ecosistemi potessero essere tutelati efficacemente attribuendoli dei diritti e mi sembra che la risposta sia positiva, perché in varie parti del mondo questi diritti stanno diciamo prendendo piede. Per esempio in India sono stati riconosciuti i diritti del fiume Gange e di uno dei suoi affluenti. In Nuova Zelanda i diritti del fiume Vanganui, in Ecuador e in Bolivia i diritti della madre terra sono riconosciuti dalla costituzione di questi paesi e addirittura in Ecuador è stato già anche portato in tribunale per la prima volta il diritto di un fiume, il fiume Vilcabamba, che per tramite di due tutori ha citato, quindi è il fiume che ha citato, attenzione non i suoi tutori, il fiume ha citato i suoi inquinatori e ha vinto la causa e ha ottenuto una riparazione molto particolare. Allora che cosa succede qui in Italia per esempio o in Europa o in quasi tutti i sistemi giuridici? Se io per esempio inquino un fiume e sono un contadino che abbevera il suo campo con l'acqua di questo fiume, posso fare causa all'inquinatore dicendo ho subito un danno perché dando da bere l'acqua inquinata alle mie piante, le mie piante sono morte per esempio oppure ne sono cresciute di meno oppure chissà che ho avvelenato il terreno. Allora faccio causa all'inquinatore, se vinco la causa l'inquinatore mi paga il fiume, non se lo fila nessuno. Se io invece riconosco i diritti del fiume come per esempio è accaduto in Ecuador, quindi con questi diritti della natura, i tutori del fiume hanno fatto causa per conto e per nome del fiume all'inquinatore, hanno vinto la causa, l'inquinatore ha pagato il fiume, quindi ha pagato per il tramite degli inquinatori le operazioni per ripulire il fiume, nessuno si è messo in tasca niente, tutti i soldi della causa sono andati per ripristinare la situazione iniziale. E così sta succedendo negli Stati Uniti dove c'è stato anche lì il caso di un fiume, il fiume Tamaka al quale sono stati riconosciuti i diritti, ci sono diritti di laghi, ci sono diritti di foreste, ci sono diritti di interi ecosistemi, addirittura è stato riconosciuto nel 2019 per la prima volta il diritto di una specie vegetale, il riso selvatico. Quindi c'è un percorso che va in questa direzione, anche se in Europa non ne parla nessuno e noi non saremo mica il vecchio continente per nulla, perché siamo la patria del diritto e questo probabilmente ci rallenta da questo punto di vista nell'idea di poter concepire, insomma nuove forme, nuovi approcci al mondo dei viventi. E io inorridisco e spero che un pochino lo facciate anche voi, quando questi politici italiani ed europei si mettono in bocca questa espressione Green New Deal, che non si capisce che cosa cavolo sia se non che ha a che fare con qualcosa di economico, ma non ha nulla a che vedere né con l'ambiente né con le piante, perché è tutto un sistema di crediti, di compensazioni, di cose, no? Non c'entra niente con un nuovo approccio, con un nuovo modo di vedere, con un nuovo modo di rapportarsi all'ambiente, che è quello di cui abbiamo veramente bisogno e che è quello che secondo me potrebbe essere introdotto da una carta dei diritti delle piante. Io spero che l'Italia sia il primo paese a introdurla a costo zero, così diventiamo il capofila di questo movimento grande, mondiale per i riconoscimenti dei diritti dell'ambiente. L'argomento che hai appena sollevato, quello della parte economica, tocca un aspetto che in passato è stato anche studiato parecchio, che è quello del valore economico degli ecosistemi o delle piante, perché quello a cui accenni tu è un discorso che in realtà nasce, l'esempio che fai del contadino, è di una causa di risarcimento, quando c'è risarcimento c'è dietro un valore, io contadino ho perso x mila euro di raccolto a causa del signore che ha inquinato il fiume, devo essere risarcito della mia perdita. Nel momento in cui io devo risarcire il fiume, come quantifico quella perdita? Allora in passato ci sono stati e ci sono tuttora molti studi di tipo economico che cercano di far acquistare un valore agli occhi dei cittadini del verde, degli ecosistemi, dando a quegli ecosistemi un valore pecuniario. Questo non rischia almeno in parte di far ricadere di nuovo il discorso su qualcosa che diventa economico. Cioè io risarcisco il fiume non perché il fiume è un'entità che ha la dignità di essere protetta, o se vogliamo io non proteggo la quercia perché è un organismo che ha la dignità di essere protetta, ma perché quell'organismo ha un valore per me. Quindi io non faccio il riconoscimento dell'altro da me, ma gli do un valore in base alla sua utilità per me come uomo. Quindi non abbatto quella quercia perché quella quercia vale più soldi in piedi che da abbattuta. Adesso brutalizzo il concetto. Diciamo in realtà dove sono stati riconosciuti i diritti degli ecosistemi dicono proprio quello che dici tu, cioè questo ecosistema ha la dignità e ha il diritto di essere mantenuto in vita, di essere curato, di essere protetto perché è vivente. Addirittura i diritti del fiume Vanganui sono stati riconosciuti per esempio perché i Vanganui che sono una tribù, un gruppo di maori, lo riconoscono come loro antenato, come membro della tribù e quindi se uno fa del male, diciamo, se uno inquina il fiume Vanganui è come se avesse fatto del male a un membro della tribù e sulla stessa base si può fare causa a chi si comporta male col fiume e a chi si comporta male con un membro della tribù. E quindi insomma sì, è precisamente quello che dici, cioè non è il valore economico. Sono due indirizzi differenti ed è vero, come dici, che in molti casi si cerca anche di perseguire l'altro perché il punto è semplicemente quello di cercare un po' di aprire gli occhi rispetto al fatto che le piante sono degli esseri eventi straordinariamente importanti. Allora siccome il passaggio sembra troppo, il passo sembra troppo lungo per dire sono importanti di per sé, si prova a dire prima sono importanti per noi. Io non credo che sia un buon passaggio intermedio perché effettivamente, come tu sottolinei, questo ci fa ricadere insomma in una visione un po' distorta. E io per esempio mi chiedo, ma il nostro sistema economico, tutti i sistemi economici mondiali si basano sullo scambio di qualcosa che a livello ecosistemico non vale niente. Noi ci scambiamo dischetti di metallo, pezzetti di carta, numeri di transazioni online, tutta questa roba qua, a livello del pianeta, a livello della vita, non vale nulla. I nostri sistemi economici sono fondati sull'aria fritta. Noi dovremmo avere dei sistemi economici in cui le transazioni sono a base di aria, di acqua, cioè di quello che veramente ci serve per vivere. E chi è che produce quei valori lì? Sono le piante. Quindi la vera banca del mondo, quella che produce, nella quale si potrebbero diciamo depositare e scambiare valori, è una banca delle piante, non è una banca degli uomini. E questo diciamo necessita veramente di un salto insomma iperbolico, però è un salto che secondo me prima o poi si renderà necessario in qualche forma, in qualche modo. Anche perché, come abbiamo detto all'inizio, le piante potrebbero benissimo sopravvivere, molte specie senza la presenza degli animali, tutte praticamente senza la presenza dell'uomo, mentre non vale assolutamente viceversa. Sono la base di tutte le catene alimentari, sono la base della produzione dell'ossigeno, della mitigazione dell'ambiente, insomma di tutta una serie di benefici di cui noi usufruiamo non solo gratuitamente, ma anzi creando danno a chi genera questo tipo di benefici. Allora, come abbiamo detto alla fine del libro c'è una serie di domande, che è saltata fuori, che un po' te le fai tu, un po' sono nate da dialoghi, da conversazioni con persone mano a mano che scrivevi il libro. Forse sarebbe curioso provare a fare questo gioco, vedere se qualcuno di queste domande, chi ci ha ascoltato, l'ha indovinata e proviamo a dare una risposta, per cui se qualcuno ha delle curiosità o nel nostro discorso è interessato a formulare qualche domanda ad Alessandra, le può fare usando la chat e noi le vediamo e rispondiamo direttamente. So che non è la stessa cosa come fare una domanda in pubblico e parlarne guardandosi negli occhi, ma diciamo accettiamo questa approssimazione. Intanto se avete voglia vi racconto brevissimamente la storia di due donne che hanno difeso gli alberi. Giusto, perché c'era questa domanda l'argomento di Susi? Allora, era a metà del 1700, siamo in India nel Rajasthan e ad un certo punto nelle vicinanze di un villaggio cominciano ad abbattere degli alberi, quindi arrivano i boscaioli del Marajà e cominciano a tirare giù gli alberi sacri. Gli uomini sono quasi tutti a lavoro nei campi, nel villaggio ci sono soltanto le donne e sono le donne le prime ad arrivare a cercare di fermare i boscaioli del Marajà. Ci va Amrita Devi, che è questa donna, evidentemente io la immagino molto intraprendente, con le sue tre figlie e si piazza davanti ai boscaioli e gli dice non potete tirare giù questa foresta che è sacra? E i boscaioli, figuratevi, metà del 1700, una contadina, le dicono guarda il Marajà vuole costruire un nuovo palazzo, spostati che dobbiamo tirare giù gli alberi. Lei abbraccia l'albero e dice no, questi alberi sono sacri, piuttosto la mia testa. Il boscaiolo non ci pensa due volte, Zack taglia la testa di Amrita. Le figlie immaginatevele sono inorridite, ma dopo Amrita è la volta delle tre figlie e tutte e tre, una per volta, offrono la testa al boscaiolo e il boscaiolo le decapita, così almeno dice la leggenda, tutte e tre. A quel punto però la voce inizia a correre perché non stanno tirando giù soltanto gli alberi, ma stanno uccidendo le donne del villaggio e quindi tutti gli uomini del villaggio accorrono per capire che cosa stia succedendo e scoprono appunto che Amrita e le sue tre figlie sono state uccise e allora succede l'incredibile, l'impensabile. Questi uomini uno dopo l'altro abbracciano gli alberi e si offrono di essere decapitati piuttosto che gli alberi vengano abbattuti. Allora la questione comincia ad essere più complicata, non si possono uccidere tutti gli uomini del villaggio, il messaggio arriva fino al Marajà e il Marajà, che evidentemente è un po' cattivello, decide di accettare la testa di un abitante del villaggio per ogni albero che verrà salvato. E questo poi insomma, questa che è una metà tra la storia e la leggenda, è una storia che sta anche alla base del movimento cipco, dei cosiddetti abbracciatori di alberi, cioè di quelli che hanno salvato poi peraltro boschi interi in India e non solo, abbracciando gli alberi mentre qualcuno cercava di abbatterli. Facciamo un salto iperbolico, come ci suggeriva Renato, andiamo invece su una sequoia nel nord della California, una trentina, quarantina, adesso non ricordo esattamente di anni fa, e scopriamo insomma che in questo bosco di sequoie ultracentenarie c'è una compagnia, la Pacific Lumber Company, che vuole tagliare a raso tutta la foresta, cioè tagliare le sequoie il più basso possibile, poi bruciare la terra col napalm e averne così dei grandi profitti. Solo che in quel momento c'è lì nel bosco un gruppo di ambientalisti del quale fa parte Giulia Hill, che ha soltanto 23 anni, e Giulia quando sente questo rumore di queste sequoie che vengono tagliate, pensate a questi tronchi enormi, 5-6 persone non bastano per abbracciarli per quanto sono grandi, e poi si schiantano dentro il bosco e poi lei racconterà, facevano questo rumore come un grido, e io lo sentivo nelle ossa e a un certo punto mi hanno detto ma vuoi fare qualcosa per salvare? Dice io avrei fatto qualsiasi cosa, mi hanno detto salici sopra e io ci sono salita. C'è salita e ci è rimasta più di due anni, l'hanno poi aiutata a costruire una specie di piattaforma di legno, le hanno passato un po' di cose da mangiare, insomma un po' di utensili vari, più di due anni è stata lì sopra, e questo è servito a salvare sia la sua sequoia, scusate che poi le aveva battezzato l'una, che tutte le sequoie lì intorno, perché chiaramente anche quelle non potevano essere abbattute se non rischiavano che le cadessero addosso, è riuscita a proteggere un'area abbastanza vasta e poi il suo esempio è stato seguito anni dopo anche in Tessonia da un'altra ragazza, ora il punto era ma veramente dobbiamo rischiare la vita, dobbiamo perdere due anni di vita in cima a una sequoia per difendere degli alberi, non si possono trovare degli altri sistemi, io penso che sì, questi sistemi si chiamano diritti. Ho visto che c'è una domanda lunghissima, quindi mi sono fermata. Sì, no, 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 la vedi anche, no, sì, è una constatazione, è una riflessione su quello che abbiamo detto, una riflessione che è perfettamente in linea, credo, con il messaggio che stai cercando di trasmettere. Ti faccio una domanda io, così, per rompere il ghiaccio. Col giardinaggio come la mettiamo? Col giardinaggio? Bene, così come la mettiamo col fatto di avere un gatto o un cane, insomma. Senz'altro ci sono delle piante domestiche, così come ci sono degli animali domestici, quindi ci sono delle piante che vivono volentieri accanto a noi. Se mi chiedi, però, per esempio, come la mettiamo coi bonsai, ecco qui... O con certe potature delle siepi. O con certe terribili potature delle siepi o degli alberi, ecco qui, secondo me, bisogna avviare una discussione. È vero che le piante, come tu dicevi, giustamente sopportano anche delle potature, in alcuni casi noi siamo pure convinti che li facciano bene, no? Però, insomma, non è vero che si possono potare le piante come piace a noi, per un criterio estetico, oppure che si possono fare degli alberelli che in natura sarebbero alti 30 metri, alti 30 centimetri, perché così sono più carini nel loro vasetto. Ecco, io questo non lo credo. Invece, riguardo al giardinaggio, fa bene, fa bene a noi, fa bene alle piante, quindi... No, diciamo che adesso ho fatto la domanda del giardinaggio, sia per un po' sollevare i temi che accennavi tu, ma anche per accenare il fatto, visto che è un elemento puramente estetico, no? Che anche il bello è un qualcosa che va incontro a cambiamenti, cambiamenti legati alla bellezza, al canone di bellezza nella società, che quindi portano nell'estetica delle istanze, che possono essere anche istanze di tipo morale, di cosa viene considerato accettabile e cosa no, anche di cosa viene considerato bello e cosa no. Il fatto, ad esempio, che negli ultimi anni ci sia una maggiore attenzione per forme di giardinaggio più vicine al territorio, quindi che utilizzino e diano un valore estetico a piante già adattate a vivere in un certo clima e che quindi non hanno bisogno di forti interventi da parte dell'uomo, è un elemento che fa parte di questa trasformazione. Tu fai l'esempio delle deformazioni indotte nei piedi delle donne cinesi, una volta era considerata una cosa molto bella, fortunatamente con l'andare del tempo si è capito che quella bellezza aveva, quella ipotetica bellezza aveva dietro una forma di dolore e di sopruso che non era accettabile e cose del genere possono avvenire anche nel caso del Verde. Un ascoltatore è Anselmo e una è Teresa. Sì, che fanno notare come ci sia, come dire, da tenere in conto che certi percorsi possono essere molto lunghi e che certi temi, di certi temi, non nella modalità in cui ne parla Alessandra, sono stati sollevati da molto tempo. Io sono partito dal Verde di città perché è un tema che a me ultimamente sta parecchio a cuore, ma il fatto che noi si continui a gestire il verde urbano, gli alberi ad esempio, più in base a questioni economiche e di comodità che non in base alle esigenze che quelle piante hanno, è un tema di cui si parla da molto. Non so se forse su questo, come accenna Alessandra, il fatto di iniziare a definire dei diritti non possa rappresentare un'accelerazione, forse era questo che cercavi anche di dire prima, finché noi non mettiamo dei paletti diventa difficile far svoltare una certa direzione. Sì, ci vuole proprio un paletto, come dici tu, ideale, insomma, e il diritto da questo punto di vista è fondamentale, cioè se noi riconosciamo il diritto dell'albero o il diritto della pianta, riconosciamo che quella pianta per essere potata o per essere tagliata o perché noi possiamo scavare dove ci sono le sue radici, insomma, prima deve essere considerata come essere vivente. E questo ci porta necessariamente, o comunque ci porterà nei prossimi anni necessariamente, come diceva questa ascoltatrice, necessariamente a considerare che tante professioni e professionalità dovranno essere coinvolte, quindi i giardinieri, per esempio, dovranno essere formati e non dovranno essere persone come capita, per esempio io vivo a Roma, mi capita spesso di litigare con qualcuno che fa delle potature assolutamente fuori di testa e mi imbatto spesso in persone che, secondo me, il giorno prima facevano un muratore, insomma, e venivano da qualche altro paese, si sono riciclate venendo in Italia e hanno detto, no, no, io ho sempre fatto i giardinieri, ma non hanno la più pali idea di come funziona una pianta, insomma, c'è un albero, c'è un ramo, piglio e taglio, dove, come, in che stagione, tutto questo dovrebbe finire, dovrebbe essere regolamentato. Dico, mi aggiungo soltanto per non gettare troppo sconforto, che ho anche avuto la fortuna in questi mesi, visto che si accennava all'orto botanico, di incontrare anche professionisti che invece dal punto di vista sono estremamente preparati e il problema è che forse è anche quello legato al valore economico che dicevamo prima, per molti di noi, per molte persone, le piante non solo non hanno diritti, ma non hanno neanche valore, per cui non vale la pena spendere dei soldi per delle piante e questo purtroppo è un ragionamento che fa il privato cittadino e un ragionamento che fa la pubblica amministrazione e questo ovviamente mette fuori gioco chi lavora in una maniera più precisa, in una maniera più attenta. Questo però ci sta portando un po' fuori strano, forse. No, però invece capisco che voi siete avanti, nel senso che qua lo dicevi tu e lo dice anche il signor Anselmo, dice a Reggio i primi corsi sul verde sono stati fatti dal 1982, però invece io sono più d'accordo con il secondo signor Anselmo che dice con la crisi dell'edilizia le votature sono state gestite anche dagli addetti dell'edilizia, questa è la mia esperienza, a Roma gli addetti del verde pubblico sono per quella che è la mia esperienza. Io faccio riferimento a operatori privati che si ritrovano fuori gioco perché le amministrazioni pubbliche fanno le gestioni dell'appalto del verde al massimo ribasso e perché lo fanno al massimo ribasso? Perché culturalmente quel verde non ha un valore, vale meno dell'asfalto con cui sono state fatte le strade e quindi viene considerato quasi uno spreco spendere soldi in quella direzione. Che poi ormai si sa che è una più grande sciocchezza perché ci sono tutti questi effetti anche di mitigazione del calore, cioè le piante veramente ci portano tanti e tali benefici anche in termini economici che non riconoscerne valore è veramente una sciocchezza, cioè proprio contrario a tutto quello che anche abbiamo studiato, abbiamo capito. A volte non riusciamo a stare dietro alle cose che scopriamo. Guarda la domanda che è appena arrivata perché secondo me potrebbe essere, è una domanda che non hai incluso dentro il tuo questionario finale. Allora intanto c'era questa, nel comune di Reggio si sta procedendo con i progetti di qualifica di Calumberto, tagliati tutti i tingli che sono considerati instabili. Spesso sono instabili perché magari hanno fatto, che ne so, le tubature del gas o hanno messo la fibra, hanno tagliato tutta una fila di radici e poi dice, ah, le piante cadono. Ma guarda, che strano no? Sì, sì, le piante crescono bene se sono nelle condizioni ideali per crescere, se questo non viene considerato. Infatti oltre al diritto alla vita ci dovrebbe essere tra i diritti anche il diritto a condizioni ottimali. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, il diritto al benessere, certo. Esatto. Il fatto che il più delle volte siamo noi a piantare le piante non sono loro che crescono spontaneamente, non induce a noi umani a sentirci comunque coloro che danno la vita e quindi la morte alle piante. Beh, intanto che sia il più delle volte forse avrei qualcosa da obiettare, nel senso che accade che siamo noi a piantarle, ma non direi senz'altro che a livello planetario o ecosistemico il più delle volte siamo noi. Non so, Renato, che ne pensi? Se si fa riferimento all'agricoltura ovviamente le piante con finalità produttive le piantiamo noi. Però sono piante, sono specie che molto spesso potrebbero, cioè vivrebbero magari in maniera meno numerosa, ma crescerebbero lo stesso. Sicuramente se vogliamo però da questa domanda possiamo sviluppare un ragionamento legato anche al fatto che con l'agricoltura, con la nascita dell'agricoltura, storicamente noi abbiamo anche un po' gradualmente perso un certo tipo di contatto con la pianta come organismo inserito in un ecosistema. La pianta è diventata un service, è diventata una commodity, è diventata qualcosa che cresceva a nostro uso e consumo per soddisfare i nostri bisogni e che spesso abbiamo trasformato e modificato semplicemente in base ai nostri bisogni. A di là che la selezione sia avvenuta per motivi, per diciamo trasformazioni da OGM o per selezione naturale, noi abbiamo anche creato piante che in natura farebbero molta fatica a sopravvivere. Non so, penso al mais che è una pianta che per avere quelle caratteristiche noi abbiamo pesantemente trasformato, un ragionamento simile a quello di molte razze di cani che poi senza l'uomo farebbero fatica a sopravvivere. Ci fanno la domanda delle domande, ma noi cosa possiamo fare? Ma noi cosa possiamo fare? Sicuramente non possiamo fare molto per il Brasile, perché il Brasile è uno stato sovrano e quindi noi diciamo tutti che l'Amazonia è il nostro polmone verde e sì, un po' è vero, però sicuramente è anche vero che forse dobbiamo intanto preoccuparci dei boschi che sono qui e di come li trattiamo e poi dovrebbe esistere probabilmente in un sistema ideale, se è vero che l'Amazonia è il nostro polmone, un sistema di compensazione. Cioè noi, a proposito del sistema economico che dicevamo prima, noi respiriamo l'ossigeno che è prodotto da quelle piante che stanno lì e allora però in qualche modo ci deve essere una compensazione per il paese che ospita le piante che fanno l'ossigeno che noi respiriamo, perché se no è troppo comodo. Cioè se uno produce telefonini e noi vogliamo telefonini, li compriamo e li paghiamo e se uno produce ossigeno e noi quell'ossigeno ce lo respiriamo, perché non dobbiamo pagarlo in qualche modo, perché non dobbiamo riconoscere che questo ossigeno ha un valore e questa funzione di regolazione del clima di tutto il pianeta gigantesca che ha, tra l'altro in grande parte anche la foresta amazonica ha un valore. Se tutto viene mercificato, qualsiasi cosa, tranne l'ambiente, è chiaro che l'ambiente diventa impossibile da proteggere in un sistema per cui le cose hanno valore soltanto se si possono comprare e vendere o scambiare. E se quelle cose lì non hanno valore, allora è impossibile difenderle. È l'eterno vaso di coccio, diciamo, in questo tipo di dinamica. Sicuramente una cosa che possiamo fare noi è cercare di sostenere chi a un certo punto vorrà proporgli questi diritti. Ti faccio l'ultima domanda che secondo me parte bene dal cosa possiamo fare che ci è stato messo qui. Ipoteticamente di fronte al libro, alla fine del libro, dopo il libro, secondo te cosa ci dovrebbe essere? Cioè mettiamo che adesso io, te e le 104 persone che ci stanno ascoltando, decidiamo che questo effettivamente è un valore che deve essere portato avanti. Che strada ti sei immaginata? Su che gambe potrebbero camminare questi ipotetici diritti per diventare diritti effettivi? Allora, questi diritti devono, diciamo, avere ad un certo punto un approdo politico, se vogliamo che servano a qualcosa. Quindi ci vuole, diciamo, un sistema per portarli da un ministro, per portarli in Parlamento, per fare, diciamo, una pressione che si trasformi in una pressione sul sistema politico. Io in questo momento sto facendo, diciamo, un lavoro di tessitura tra le varie realtà con le quali sono entrata in contatto per cercare intanto di mettere insieme un po' di massa critica. Ci sono dei gruppi Facebook, ci sono delle associazioni tantissime in Italia, è pieno di persone che sono pronte, che sono totalmente in linea con questa idea e con questo modo di guardare le piante. Ed è incredibile che in Italia il Partito dei Verdi, che probabilmente tutte queste persone potrebbero, non abbia degli esponenti abbastanza convincenti. Spero non me ne vorranno, ma è così. E quindi bisogna pensare anche, diciamo, un pochino di puntare su una nuova classe dirigente che abbia a cuore questi argomenti delle piante, quindi trovare dell'ambiente, della tutela delle piante, quindi trovare anche un, non so se un partito politico, comunque all'interno dei vari partiti politici, delle persone che facciano, diciamo, professione di avere capito, di avere in testa una nuova idea e quindi appoggiare quelle, perché se non passiamo dalla politica, purtroppo non è che vogliamo fare. La politica è lo strumento che le nazioni democratiche si danno per cambiare, per evolversi, per migliorare. Quindi sicuramente bisogna approdare lì in qualche modo. È anche vero che per arrivare a parlare a quel tipo di interlocutori, più è ampia la massa critica di persone che lo propone, più è ampia della società quel tipo di sensibilità, più diventa facile trovare attenzione. Significa portare un'istanza che non è più di pochi, ma è un'istanza di molti e quindi immagino che non soltanto col libro, diciamo che il libro sicuramente mette il seme, poi questo seme va annaffiato e va accudito per riuscire a portare sui tavoli della politica i frutti che si vogliono fare. Quindi io direi che, mi pare che il libro l'abbiamo, non so se tu hai degli aspetti del libro che abbiamo trascurato, ma mi pare che le cose più importanti e più curiose le abbiamo sviluppate. Direi che la cosa che io mi sento di consigliare, anche alla luce di quello che abbiamo prima detto, è che questo libro venga letto, perché leggendo il libro e ragionandoci su, secondo me c'è tutto quello che serve per iniziare a costruire questo tipo di massa critica. Poi, a me si è fatta notte, a Reggio Emilia che è un po' più a est, è venuta notte qualche minuto prima che qui, a Roma hanno acceso la luce giustamente, sono stati più accorti di quanto non sia stato io qui a Parma e quindi lascerei la parola a Susi Davoli per i saluti finali. Beh, io vi ringrazio e ho visto nelle tante domande che sono state fatte, un elemento comune era quello di formare una cultura a partire dai bambini e poi per passare alla popolazione e rispettare le professionalità. Sono due elementi che sono stati comuni a molti interventi, perché finché non c'è una sensibilità, Renato Bruni diceva che è maturata una sensibilità, però c'è ancora molta strada da fare, accendo la luce anch'io perché siamo già al buio, c'è ancora molta strada da fare e certamente quando io dicevo un libro così andrebbe proprio letto anche nelle scuole, meditato eccetera e discusso, è proprio una delle strade per aumentare questa sensibilità e poi è chiaro che bisogna arrivare poi a chi fa, a chi prende le decisioni politiche. Credo che sia un po' l'istanza e l'esigenza che tutti hanno avvertito e tutti noi stiamo avvertendo. Speriamo che si possa andare avanti, speriamo che non abbattano, ma le hanno già abbattute queste querce, mi ha fatto stanziale. È terribile, questo è proprio, bisognerebbe andare ad abbracciarle come, tornare ad abbracciarle come è stato fatto perché è veramente tragico così, così non va bene. Ecco, niente, con questo io posso dire una cosa su questa cosa, questa idea dei bambini che mi piace molto, la ringrazio di avere raccolto questa istanza che veniva anche delle domande. Allora, è bellissimo, i bambini è vero, sono super aperti, non fanno nessuna fatica se uno gli spiega che le piante sono intelligenti, che devono avere i diritti, loro sono subito pronti ad accettare, a entrare in quest'ottica. Però mi viene sempre in mente un po' una frase, così un concetto di Greta Thunberg, no? Era una bambina anche lei, e lei diceva, ma sì, è vero, mi dicono tutti quanti che devo crescere e devo studiare perché così poi risolverò i problemi dell'ambiente. Però i problemi dell'ambiente sono adesso e se io aspetto di essere cresciuta, probabilmente sarà tardi perché alcune cose saranno irreversibili. Allora, è bello, e io sono d'accordo e mi piace, e lo faccio anche tanto, che dobbiamo parlare con i bambini, dobbiamo spiegargli, dobbiamo... Però è adesso che noi dobbiamo fare qualcosa, non possiamo aspettare vent'anni, quindici anni che questi bambini crescano e prendano loro in mano quello che noi non siamo capaci di fare. Insomma, secondo me, se noi ci siamo convinti che ci vuole un nuovo approccio, siamo noi che dobbiamo farlo e lo facciamo anche con i bambini, anche per questi bambini, ma lo dobbiamo farlo noi, non possiamo più fare a loro. Certo, certo, infatti è proprio una questione ormai di tempo. Come si diceva ieri con il meteorologo Vittorio Marletto, non c'è più tempo, bisogna intervenire adesso. Ecco, questo è stato il messaggio, e questo è anche il messaggio che ci siamo appena sentiti dire da Alessandra Viola. Bene, allora grazie e speriamo alla prossima. Grazie mille e grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. A presto. Un saluto a tutti. Buona serata. Arrivederci. Grazie.